Un bellissimo raduno, complimenti per l'organizzazione Un bellissimo raduno, veramente un bellissimo raduno Gerardo E adesso parliamo con... c'è una macchina Iato, industria automobilistica Toscana 135 vetture prodotte, una delle 125 che la luna Ce l'ho ancora io! Comunque è stato un raduno bellissimo, non me l'aspettavo Cioè non è che non me l'aspettavo, è più di quello che uno si aspettava Anche perché dovuto alle forti piogge è diventata abbastanza complicata la cosa Su alcuni tratti, comunque una bella giornata, è finita in bellezza Perfetto, adesso anche il Nola 4x4 con il suo rappresentante Che posso dire, è un raduno iniziato nel migliore dei modi, con tanta pioggia E ci siamo comunque trovati in tanto fango Una bella giornata, tanti cari amici Buonasera Terminio Terminio, buonasera E niente, come diceva il mio collega Effettivamente stamattina sembrava un po' dura la situazione Poi dopo praticamente si è sciolta la giornata Ovviamente abbiamo trovato le difficoltà, le cose Ma comunque la giornata è fina a bella E poi effettivamente siamo tutti qua insieme La cosa più bella, grazie veramente di cuore Grazie